Il Florian Espas, lo spazio del Florian Teatro Stabile d'Innovazione su lungo fiume di Pescara in via Valle Rovetto 39, ovvero lo spazio della ricerca e della sperimentazione in Abruzzo, festeggia quest'anno 25 anni. E il sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia, ha celebrato la ricorrenza consegnando questa mattina una targa e ricordando che il Florian Espas nasce da una scelta precisa da parte di Giulia Basel, attrice, regista, fondatrice e direttrice artistica del Florian Teatro Stabile d'Innovazione, insieme a Massimo Vellaccio, attore e co-direttore del Florian, e a Gianmarco Montesano, autore, regista e artista visivo. Costruire una stabilità pescara, dare una casa alla compagnia Florian e nel contempo aprire un luogo per lo spettacolo dal vivo, con particolare riferimento al teatro di ricerca, ma attivo e recettivo per gli artisti e le attività culturali di ogni provenienza e disciplina. Insomma, creare un luogo deputato per la produzione e l'ospitalità anche in residenza e la promozione culturale disponibile tutti i giorni e in qualsiasi orario in una città come Pescara, dove in quegli anni ci si poteva solo ritagliare qualche modesto e costoso spazio tra una programmazione cinematografica e un'altra. A distanza di 25 anni, proprio il 20 febbraio di quest'anno, il Florian Nespas festeggia il suo 25esimo compleanno con una festa per ricordare e ripercorrere alcune tappe di questo lungo percorso, condividendo l'emozione insieme a quanti hanno seguito con entusiasmo le programmazioni, le proposte artistiche, gli appuntamenti della lunga storia del Florian Nespas.